28 gennaio 1966. La nazionale italiana di nuoto parte per Brema in Germania per il meeting invernale più importante della stagione. Sergio De Gregorio, Bruno Bianchi, Amedeo Chimisso, Chiaffredo Dino Rora, Carmen Longo, Luciana Massenzi, Daniela Samuele con il tecnico Paolo Costoli e il giornalista della RAI Nico Sapio. Perirono tutti per un ritardo di 12 minuti. Erano i più bravi, ma chi in Italia si interessa del nuoto? Siamo circondati dal mare e semplicemente sapersi tenere a galla sembra una roba rarissima. Siamo cresciuti insieme e la cosa bella è crescere insieme e invecchiare insieme, è come nel matrimonio. A noi è mancato questo, l'invecchiare insieme a loro. Nella piccola piscina di Brema, sulla quale erano puntati gli occhi delle telecamere dell'Eurovisione, le batterie non furono modificate e ogni volta che dovevano gareggiare gli italiani, la corsia restava vuota e veniva deposto un bouquet di fiori sul blocco di partenza tra la commozione generale. Un bouquet di fiori su un blocco vuoto. Per noi compagni di scuola, ma soprattutto amici fuori dall'ambiente scolastico, la scomparsa di Carmen è stato come perdere un po' di noi stessi, un po' della nostra vita. Sono passati 50 anni, noi ce la ricordiamo sempre e non ci dispiace se qualcuno si ricorda di noi e ricorda questa fantastica ragazza. Avverto appena alcune precisazioni sull'incidente aereo del giorno prima, che ha stroncato la fiorente giovinezza dei campioni azzurri di nuoto, la cui scomparsa espira, specie per chi sia del tutto ignaro di sport, niente più che un commosso ma generico e vago sentimento di rimpianto. Hanno portato il ferretro da Roma, sono arrivati con la macchina a Piazzale Roma, è stato imbarcato su un'imbarcazione, è stato portato alla Giudecca dove noi siamo nati, c'era una folla immensa. Gentilissimo Don Galli, prima di tutto voglio scusarci, se solamente oggi rispondo alla sua cartolina, inviatami nella sua breve visita a Roma e all'ultima del set, con la documentazione illustrante, la sua nobile iniziativa del Tempio Sacrario degli Sport Nautici. Dopo la tragedia di Brema, Don Galli effettuò un pellegrinaggio nelle città di provenienza dei caduti di Brema, chiedendo alle famiglie un ricordo dei loro amati da esporre nel Sacrario. L'eredità di questi due dorsisti, oltre che del resto della nazionale, dell'Olimpia, delle due finali, eccetera, ma mi sono sempre chiesto se sarei riuscito a batterli sul serio in una gara diretta e questa risposta non ce l'ho. Mio fratello Sergio era un tipo esuberante al massimo, dolce, ma nello stesso tempo c'era anche un bel caratterismo. e mi chiamarono alle sette e mi dissero che Sergio era caduto con lei. Il papà adesso è anziano e lui giustamente i suoi ricordi si fanno più dolci, no? Col passare del tempo, però Sergio lo ricorda sempre, sempre, sempre. Può sembrare stonato ricordare queste immagini di felicità, ma io riesco a trovare la forza grazie a questi ricordi felici. Non penso che sia un altraggio alla loro memoria. Era un giornalista prevalentemente sportivo, anche se all'epoca appunto non c'erano queste distinzioni. Poi lui era andato man mano, man mano, affermando, facendo le Olimpiadi e quindi specializzandosi nel nuoto. Era molto vicino anche ai nuotatori. Non per niente quell'aereo l'ha preso proprio per stare con loro. Zio Paolo, prima di arrivare alla Rarri Nantes Florenzia, è stato allenatore di pallannuoto a Rio de Janeiro, al famoso Fluminense, che quell'anno si laureò campione d'America. Per Zio Paolo il nuoto era la sua ragione di vita. La Federazione Italiana Nuoto, il Presidente, il Consiglio Federale, non possono che rimanere concentrati nel ricordare quel tragico evento che ha colpito la nostra migliore gioventù. Li ho conosciuti tutti. Qualcuno bene, qualcun altro più superficialmente. Ma ho passato con loro degli anni che prima pensavo di non scordare. E ora, ne sono certa, rimarranno per sempre nei miei ricordi più cari. Il cuore è grande, ci possono stare migliaia e migliaia di persone e di ricordi e loro hanno una parte importantissima dentro di noi. Alla prossima. 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 Alla prossima.